Gentili telespettatori, buona giornata. Ieri c'è stato il finto matrimonio, il quasi sposalizio tra Berlusconi e la fidanzata di 50 anni più giovane Marta Fascina. E' stato invitato Sgarbi e Salvini, pochi politici. L'unico big politico al di fuori di Forza Italia era proprio Matteo Salvini. Dice così Berlusconi, Salvini è il politico più coerente che c'è in Italia, la persona più trasparente nei rapporti politici. Berlusconi ne ha elogiato così l'onestà, ma non nel senso in cui la intende Di Pietro, mi riferisco alla chiarezza. Berlusconi ha detto che Salvini è il più trasparente e affidabile dei politici italiani. Beh, pensavo a uno scherzo, invece non lo è. Capisco che era la festa del quasi sposalizio, del quasi matrimonio, un giorno felice. Poteva dire a Salvini, guarda, grazie per essere qui, sei un amico. Ma dire che il politico più coerente, la persona più trasparente e affidabile dei politici italiani. Quello che mi ha stupito è che la realtà è diametralmente opposta. Politico più coerente, trasparente, il più affidabile dei politici italiani. Beh, in questi ultimi, diciamo così, due anni, o meglio, diciamo che oltre due anni, due anni e mezzo, quasi due anni e mezzo dalla caduta del governo Conte I, Matteo Salvini, il capitano leghista, realmente ha dimostrato di essere, credo, il politico meno coerente che io abbia mai visto. Secondo me è la persona meno trasparente nei rapporti politici che io abbia mai visto in Italia e la persona meno affidabile tra i politici italiani. Tutto l'opposto che dice Berlusconi. Adesso non so come si chiama, però in psicologia è quando tu fai i complimenti a una persona, dici delle cose che poi sono l'opposto. È come se tu le stessi pensando e per esorcizzarle dici l'opposto, quasi come volerlo elevare a un qualcosa che non è. Quasi un sogno quello che Salvini realmente sia il politico più coerente, più trasparente, più affidabile. Certo che queste tre cose dette così in sequenza lasciano perplessi, perché Salvini nel governo Draghi ha fatto dell'incoerenza il suo modo di far politica. Ne quante volte abbiamo parlato del sì, no, forse. Oggi no Green Pass, domani sì Green Pass, la sera stessa forse, l'indomani sì, il pomeriggio dopo di nuovo no. Poi soprattutto il dire no, 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 nelle televisioni, nelle radio, no, 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 non passerà mai. Le famose barricate salviniane, il giorno successivo poi in Consiglio dei Ministri, la Lega, assieme a tutti gli altri, all'unanimità, ovviamente su ordine di Salvini, i ministri della Lega votano l'opposto di quello che il capitano aveva sbandierato il giorno prima. Quindi lui ha fatto, e poi, dopo il no nelle televisioni, il sì nel governo, il giorno dopo Salvini tornava all'attacco dicendo che era tutto sbagliato. Ecco, diciamo che questa è l'incoerenza fatta politica. Ovviamente l'incoerenza che cosa porta in politica? Perdere il 20%, come ha perso lui, e 10 milioni di elettori. Quindi la politica del sì no forse, che poi era stata anche confermata, mi ricordo Zaia, mi ricordo forse, come si chiama, non Calderoli, ma quell'altro politico della Lega che adesso non se ne sente più parlare, Castelli forse, aveva detto, ma sì, è chiaro, è chiaro, questa è una strategia politica, su un argomento noi diciamo sì no in modo che noi tratteniamo tutti gli elettori, quelli che pensano per il sì rimangono, quelli che pensano per il no rimangono. Cioè, se tu gli dici sì no, anche forse, allora l'elettore non ha motivo di andare via perché si sente dire quello che vuol sentirsi dire. In realtà non c'è peggio e di più sbagliato che questo. Non c'è peggio e più sbagliato di questo. Atteggiamento, perché l'incoerenza in politica la si paga. La coerenza invece è una qualità che in pochi hanno. Diciamo che il politico più coerente probabilmente è Giorgia Meloni e il politico più incoerente, credo, della storia della Repubblica Italiana sia proprio Salvini. Trasparente. L'incoerenza va a braccetto con mancanza di trasparenza. Lui però dicendo il contrario, il politico più coerente, il politico più trasparente. Invece lui è il politico meno coerente e di conseguenza meno trasparente perché le due cose vanno a braccetto nello stesso senso. Più coerente meno trasparente, cioè più coerente più trasparente, meno coerente meno trasparente. Le cose vanno a braccetto nello stesso senso, non possono andare in senso opposto. E naturalmente anche l'affidabilità va a braccetto con coerenza e trasparenza. L'ultima cosa che dice Berlusconi, l'affidabilità si trasforma in affidabilità che va a braccetto con incoerenza e che va a braccetto con mancanza di trasparenza. Questi tre termini vanno in un senso o nell'altro tutti assieme. non possono essere consensi opposti. Quindi Berlusconi che dice Salvini è il politico più trasparente, affidabile e coerente, in realtà dobbiamo dire che è il politico meno coerente, meno trasparente e meno affidabile. Chiedetelo a Giorgia Meloni che sta ancora aspettando la sua salita in ufficio il giorno prima dell'elezione di Mattarella. Da lì in poi è sparito. Sparito perché non ha la faccia di chiamare Giorgia Meloni dopo che ha fatto lo sgambetto facendo eleggere Mattarella. Questo lo chiamate il politico coerente, trasparente e affidabile? È l'opposto. È esattamente l'opposto. E sfido chiunque a dire il contrario. Anche il tifoso salviniano sarà lì così. Il tifoso salviniano dirà che cosa scrivo nei commenti? Come faccio a contrastare l'opinione del professore che sembra incontestabile? Dai, tifosi salviniani, provate a scrivermi il perché è trasparente, affidabile e coerente. Provateci. Se ci riuscite, non lo so. Vi faccio delle lodi pubblicamente, ma è impossibile. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.